Preghiera della Sera Signore, la ricchezza e il denaro sono tenuti eccessivamente in conto nella nostra epoca. Molti, nei loro pensieri e nelle loro aspirazioni, li hanno innalzati al rango di valore supremo. Tali beni si educono e accecano anche me. Modera il vigore dei miei sforzi quando i beni materiali diventano una vera e propria tentazione. Concedimi una santa serenità che ti renda grazie e si rallegri nei giorni di prosperità. Una serenità che nella privazione sia incoraggiata da uomini caritatevoli e sia sorretta dalla certezza che il Padre che ci ama ci ha liberati dalla preoccupazione per il domani. Amen